Allora, salve a tutti, siamo di nuovo in questa nuova puntata di Crash, da Mattia Valcarenghi. Allora, vediamo quali sono i mondi che mi mancano per fare le gillari lì, ok, under pressure. Devo fare meno di 1,40, allora iniziamo solito. Allora, va, iniziamo. Dai, dai, attenzione, dai, così, dai. Oddio, attenzione, guardate come non atta Crash. Allora, sono bello, qua ci sono gli anima retti, infatti. Devo stare attento allo scopo, dai, dai, Crash. Siamo già a 30 secondi, attenzione. Vai, questo ho superato, però oggi sono più cassa, ora vai. Vediamo se c'è, ecco la pallina, questa saluta. Allora, oh, qui, vai. Allora, qui dobbiamo stare attenti all'interno. Allora, che è? No, a qua qua. Scusate se fa il mio tempo, ma devo dire se ci sono le caos o no. C'era la cassetta 2 lì? Attenzione. Un'altra può, dai, oddio. Ancora 30 secondi. Attenzione. Va bene, rischiamo una guap, ma l'importante è andare avanti. Non mancano ancora 20 secondi. Dai. Ancora 20 secondi. 10 secondi, dai. Dovrei essere così arrivato, dai. Per due secondi, no. Vabbè, rifacciamo. Allora, iniziare, sì. Per due secondi io non ce l'ho fatto, ma che sfortuna. Dai, io... Infatti è mancato... L'ultima cassa con la due secondi, non mi manchiamo qui. Ah. Dai. Ho perso il tempo lì, quando ho perso la buona. Ho perso il tempo lì, quando ho perso la buona. Dai, io ho perso la buona, oggi. Ho perso il tempo lì, quando ho perso la buona, oggi. Ho perso il tempo lì, quando ho perso la buona. Mi devo per te lo messo la buona. Ho perso il tempo la buona. Ancora 30 secondi. Dai, potete... Dai, cresce. Allora, se non sbaglio, faccio la cassa da... Lado a tre. Adriano, c'è su... Allora, qui devo stare attento e niente, 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 eccolo qua, non ne so, ora devo ricordarmi che è quella di acqua, bene, eccolo qua, sono quella da tre addirittura, bene, meglio niente, 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 perché non raccorda tutto oggi, dai dai crash, Vabbè perdiamo il nostro acquaco Non fa niente però Dai che devo farci Sì vabbè 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 c'è la cassa da due Cassa da Uno Dai 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 Vai siamo quasi arrivati Non più veloce così Dai ci abbiamo fatto Questo qui non mettiamo in nome Allora una relicola che farà Allora vediamo Qua una Ah manca la gemma qua Qui eh Ah sì che qua c'era la seconda Oh no anche se è gemma che è relicola Facciamo la relicola Mi sembrava che ci fosse scritto uno zero Allora vai iniziamo subito Sì Sbagliante Dai rifacciamo Dai coccolo Ce la possiamo fare Allora, devo stare attento a quella qua. Allora, da una sono riuscita a freddi. Cioè, per non prenderla qua... Sono un po' più investigato. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Non è un po' più. Stavo a doversi, sei buoni. Vai. Allora... Noi, se così si vede la schia, prenderò la posta. O la porta di potenzione. Vai, vai, vai. Ho dovuto rallentare, purtroppo. Allora... Attenzione a chi abbiamo. Attenzione. Ehi, ce lo possiamo fare. Siamo 37 secondi. Oddio... Un po' più. Ho perso le casse, ma è un palo. Noi... Tugano? Vai, vai. Non ce l'ha vada. Se so che... Eh, vai, no. Vai, vai, vai. Oddio. Sono uno zero... Vadovi... Vadovi essere quasi uno... Uno... Noi... Sì ma c'è forte, c'è forte A 50 per ora, vabbè niente vediamo nel prossimo mondo se c'è ancora qualcos'altro Allora qua ho fatto sì, ho già ma qui Poi manca la genna Poi non manca la genna Allora non facciamo tutte le arie dietro Non chiedo se sarà difficilissimo Qua è lì Oddio Cos'era un po' difficile Parliamo già con i lanciami Questa è un po' difficile 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 Allora qua, almeno di una quarta Sì Non devo prendere niente da qua Oddio Non 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 Adesso Questa è un po' difficile Era un po' di un bassone Atenzione Ma ho predi un tempo E' un po' di un tempo E' un po' di un tempo Oddio E' un po' di un tempo Stai sbagliando due Allora per l'altra Vai, vai, vai 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 C'è un'altra foto Buon tempo, dai Buon tempo, dai Allora 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 Ah Quello litio Belli litio Sempre questi qua di copo Il problema sarà recuperare tutto il giorno Oh No Inizioni, vai Allora, allora Vai, inizioni Oddio Oddio Come se non ce l'ho scritto ancora un po' qua Il problema che è visto Nooo Iniziamociare gli scherzi Va bene Va bene Va bene Ma che stai nella peccata Questa è la peccata Vai Vai Attenzione No Certo E poi Certo Vai Fremiamo Va Terminare Non Il problema No Inizio Molto Molto Sombo Molto Molto Infine Molto Molto dentro ...dia... ...non ci ha così un discorso... ...vai... ...e uno...oddio... ...e due... ...dove la cosa passa? ...vai, dobbiamo far andare... ...lo sento di che... ...lo sento di che... ...vai, la freccia mici... ...vai, la freccia mici... ...vai, la freccia mici... ...vai, la freccia mici... ...attenzione... ...uh... ...per poco... ...quad'è un silo andato così... ...ma, ha presi tutto... ...non è ciò... ...oddio... ...vai, la freccia mici... ...dia... ...dia... ...uh... ...dia... ...dia... ...oh, oh dio... ...dia... ...ha preso... ...dia... ...dia... ...do... ...e... ...attenzione... ...forzio più tempo prenderla a canso... ...no... ...dia... ...dia... ...leva che soppone... ...attenzione... Siamo in turno Abbiamo una nuova gattaccia Abbiamo non essere la cosa la fine Dovremmo, non è? Abbiamo non essere la cosa la fine Fida, mi prendo più la tassa qui. Io c'ho una nuova. Una cinquantone. Rifacciamo. Non mi prendo più. Non mi prendo più. Ora, iniziamo. ... 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 Non si conosco, però... Non mi può dire, non mi fa sognare per un tempo. Vai a cercare di tenere questa notte. Ce l'ho fatto? Noi, mi aiuto troppo. Vai, vai, vai. Non è che ci sento l'acqua, non mi guarda. Non mi guarda, non mi guarda. Non mi guarda. Non mi guarda. Dai. Non, non, non. Dai, papà. Non mi guarda. Ah, qui no. Atenzione. Ciao. Ma che... ciao. Nadai. Ho perso con due secondi e intentato lo tu, torti. No. Non se vede. No, non mi guarda! Ok, guarda! 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 Ora, guarda! Si, perlomo state! Ehm... Ehm... Vabbè, non avevo le classi d'oltre, forse, non uscivo la prima volta. Oddio, devo far sempre girare la mano. Oddio, che insieme? Ho perduto un sacco di classi. No, ero quasi arrivato. Dai. Cosa ho rischiato? Cosa ho rischiato? Nooo! Cosa ho rischiato? Cosa ho rischiato? No, non l'hai... Prodoster attimbi... ... 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 E' un'energia, come bo. E' un'energia. E' un'energia. E' un'energia. Noi. E' l'energia! E' l'energia! Pido per l'attenzione E' l'energia! E' l'energia! E' l'energia! E' l'energia! E' l'energia! Si, si... Vabbè!! 1-21 Ho preso anche l'orda, è vero? Vediamo qual'è il prossimo No no, questo Per questo Oddio Le tinte sono proprio più difficili Aspetta ogni farcia, dai Allora, 2-0-1 Allora, aspetto che se ne va bene Vale Allora 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 Allora